Studiare l'utilizzo del basilico per aiutare i disturbi della tiroide, scoprire come gli inquinanti ambientali danneggino il pancreas causando diabete e cancro o come utilizzare la saliva al posto del sangue per analisi mediche più veloci e meno invasive. Sono solo alcuni dei progetti di ricerca portati avanti a Pisa nel settore delle scienze della vita che oggi è stato al centro di un accordo sottoscritto a Firenze sotto legida della regione dagli enti pubblici, le università e le strutture di ricerca. L'intesa è quella di evidenziare sinergie importanti che sono già in essere fra gli otto soggetti firmatari, soprattutto ovviamente parliamo del sistema della ricerca pisano al suo completo e più anche dei centri servizi che sul territorio abbiamo costruito come investimento del territorio, delle enti locali, della regione per la ricerca in campo soprattutto biometrico e delle scienze della vita. L'obiettivo dell'accordo firmato da Comune e Provincia di Pisa, Scuola Normale, Scuola Sant'Anna, Università di Pisa, Pont Lab e Centro Nest è a utilizzare in modo sinergico le infrastrutture e le strumentazioni ottimizzando le risorse e promuovendo la nascita di brevetti e nuove imprese. L'attività della provincia, dei comuni e evidentemente soprattutto della regione ha permesso di unire queste strutture in un progetto significativo. Alcuni grandi successi sono già stati ottenuti, è stato finanziato con successo un progetto sugli inquinanti ambientali e il loro rapporto col cancro. In questi giorni stiamo valutando la possibilità di ottenere dall'Europa sovvenzioni su progetti riguardanti il pancreas, le cellule staminali, le nanotecnologie, mettendo appunto a regime e in collaborazione strutture diverse. Il settore delle scienze della vita è all'avanguardia in Toscana. L'accordo firmato oggi punta soprattutto sulla prevenzione e la cura dei danni alla salute indotti da cause genetiche e ambientali. Noi abbiamo parecchi progetti, tra questi uno fondamentale è per esempio l'analisi di certe sostanze utilizzando il sangue e a posto del sangue la saliva in modo da fare queste ricerche meno invasive per quel che riguarda il paziente ed avere anche la risposta molto più rapida. Poi per esempio il contenuto di iodio nel sangue e anche quindi come si possa migliorare questo contenuto mediante la coltivazione di particolari verdure e così via.